Grazie Giuseppe dell'invito. Sì, come tu hai detto, io ho selezionato alcune delle novità del 21 per ricondurle a un po' di punti che hai sollevato e che ovviamente anche ho ascoltato negli altri interessantissimi interventi. Quindi come buona norma mi presento, per chi ci ascolta, io sono Roberto Ascione, CEO di Healthware Group, sono anche il chairman di Frontier Health, la conferenza che è stata citata e che finalmente siamo riusciti a portare in Italia. E in tema di Digital Therapeutics ho anche partecipato alla fondazione della Digital Therapeutics Alliance, con la quale abbiamo fatto veramente tante cose in questi anni, prima tra tutte in quel di Washington, creare le linee guida per l'FDA che hanno poi portato alla immissione, diciamo così, nel mercato delle prime terapie digitali. Quindi da italiano ho grandissimo piacere di partecipare al dibattito su questi temi anche nel nostro paese, perché insomma finalmente dopo una ventina d'anni di attività prevalentemente all'estero, anche in Italia c'è interesse. Allora ho citato l'estero, quindi diverse cose che sono accadute notevoli sono accadute fuori dall'Italia, qualcosa anche in Italia, ci arriverò dopo. Allora, come vi dicevo, questo non è il resoconto di tutto ciò che è accaduto nel 2021, ma è una selezione di eventi notevoli per in qualche modo stressare alcuni concetti. Allora, intanto, tema dell'accesso. Per Therapeutics, che è stata una delle prime aziende di Digital Therapeutics ad affacciarsi, diciamo, nel mondo anche più specificamente delle PDTX, cioè delle terapie digitali da prescrizione, ha sostanzialmente annunciato un accordo innovativo, vale a dire l'inserimento di alcune sue terapie nel prontuario del Medicaid, quindi del servizio sanitario americano, diciamo così, generalista, in un primo stato con una sequenza di altri stati che sono in attesa di seguire. Perché questo è importante? Perché chiaramente è uno step up dell'accesso rispetto a modelli prevalentemente assicurativi che c'erano stati precedentemente. Continuo sul tema dell'accesso, che evidentemente, come abbiamo sentito, è molto importante perché non c'è dubbio che molti soluzioni di Digital Health in generale, e quindi poi, ovviamente, Digital Medicines e Digital Therapeutics hanno un'efficacia, portano un beneficio anche notevole agli utilizzatori barra pazienti, e quindi la disponibilità di accesso a questa serie di rimedi è quanto mai importante. Slipp.io, che è un'applicazione per la gestione dell'insonnia prodotta da Big Health, ha proprio recentissimamente, dopo una serie di pilot con l'NHS in Gran Bretagna, chiuso un accordo per l'accesso, evidentemente gratuito, somministrato appunto dall'NHS scozzese, su tutta la popolazione, e questa è la prima volta che questo tipo di accesso viene garantito su un intero paese in modo omogeneo. Altro aspetto interessante sull'accesso è che sempre più paesi si stanno organizzando per inserire delle soluzioni evidentemente validate all'interno della cassetta degli attrezzi, per così dire, dei medici, anche i paesi baltici hanno iniziato questo tipo di processo, con per esempio questa soluzione legata alla riabilitazione post-stroke fondamentalmente. Un altro evento interessante è l'espansione in una logica, come dire, evolutiva da una condizione patologica all'altra di alcune soluzioni che hanno dimostrato grande diffusione a livello globale. Questo è il caso per esempio di OneDrop, che è partita dal diabete, e che adesso sostanzialmente sta approcciando l'aspetto più ampio cardiometabolico, peraltro puntando su un concetto molto interessante, non sono gli unici naturalmente, che è quello dell'integrazione di sensori, per esempio, quindi bilancia connessa, vari tipi di, ovviamente, sensori per la misurazione della glicemia continuamente, cardiofrequenzimetri, creando una serie di interconnessioni di oggetti in grado di misurare e che continuamente forniscono a questa piattaforma segnali che la piattaforma poi è in grado di elaborare e fornire un riscontro all'utilizzatore. Continuando su questo tipo di aspetto dell'innovazione di prodotto, Appify ha fatto uno step, mio avviso, molto interessante. Appify era nata come un'applicazione di mindfulness e quindi fondamentalmente ricadeva nel gruppo delle app di Digital Health. Appify ha fatto un lavoro di sviluppo clinico, che tra l'altro hanno raccontato molto bene proprio all'ultimo Frontiers globale, venendo in persona a Milano. Hanno fatto una ventina di studi, devo dire molto ben congegnati, e hanno reso disponibili in questa forma chiamata Ensemble sostanzialmente un intervento di Cognitive Behavioral Therapy, quindi siamo nel mondo dell'applicazione di questi principi in un modo, diciamo così, di validità clinica. sostanzialmente su uno spettro di condizioni che vanno dal disturbo depressivo maggiore all'ansia generalizzata. Questo tipo di evoluzione è particolarmente significativa perché porta degli strumenti di intervento clinico di classe innovativa all'interno di un ambito molto complesso che evidentemente è l'ambito della mental health. Quindi da questo punto di vista sicuramente un altro step molto interessante. Sulla falsa riga, altro evento notevole è stata la fusione tra Headspace, che era la più famosa probabilmente insieme a Calm app di digital health legata a questo concetto della mindfulness, con Ginger I.O. che invece era una delle prime terapie digitali nell'ambito della mental health. Perché questo è molto importante? Perché fa capire come, adesso ovviamente non abbiamo il tempo per andare nel dettaglio, ma sono dei fenomeni che stiamo studiando da anni, fa capire molto bene come il mondo delle app consumer molto ben realizzate come Headspace, che quindi hanno la loro forza nella capacità di essere facilmente adottabili da parte degli utenti, essere, si dice, coinvolgenti, traducendo in italiano, quindi dare la capacità alle persone di utilizzarli in modo approfondito e continuo, che è essenziale per dispiegare l'effetto terapeutico di qualsiasi terapia digitale. In altri termini, se ho una terapia digitale che le persone non usano, sostanzialmente non c'è effetto, è un po' come se io prescrivo un farmaco e non lo prendo, non prendo le mie pillole per semplificare. Ecco, combinare l'aspetto di design superiore, capacità di tenere le persone coinvolte in un prodotto digitale con il rigore scientifico, l'algoritmica, la validazione che in questo caso è portata dalla componente che Ginger ha sviluppato negli anni, ecco che, un po' come Epify che l'ha fatto in casa, la fusione di questi due player probabilmente darà vita alla vera generazione di terapie digitali che avranno la capacità di essere adottate su larga scala da grandi quantità di persone. Un altro esempio interessante è la dinamica che si sta avvenendo nell'ambito della sperimentazione clinica di cui eloquentemente abbiamo sentito parlare Eugenio Santoro. Quali sono le cose che abbiamo estratto dal punto di vista degli studi? Per esempio, compaiono i primi studi che comparano in modo rigoroso, come il caso di Kaya, la performance dell'intervento digitale con la performance dell'intervento del fisioterapista, diciamo, fisico. Per evitare qualsiasi tipo di fraintendimento non sto dicendo che bisognerebbe sostituire il fisioterapista fisico con la terapia digitale. Però è chiaro che la quantità di fisioterapia fisica con operatore umano che io posso fare è per definizione limitata dal numero di terapisti disponibili, dagli orari del giorno in cui io posso somministrare o percepire questa, o ricevere questa terapia, dai costi evidentemente. E quindi è fuori questione che nel futuro delle interventi digitali validati possano complementare e aumentare quella che è l'outcome, in questo caso, riabilitativo, complementando con la macchina, il robot, l'app, l'intervento digitale, quello che è l'intervento umano. Questa è una delle grandi direzioni e quindi cominciare a validare, diciamo così, l'intervento digitale contro l'equivalente umano è sicuramente una direzione di studio molto interessante. Su questa stessa falsa riga, Applied VR ha ottenuto l'indicazione de novo per il trattamento di schiena cronico da parte dell'FDA, perché questo è interessante, perché la modalità, diciamo così, se vogliamo parlare in termini farmaceutici, il principio attivo in questo caso non è il behavioral modification in senso, diciamo così, deliberato via app, non è un videogame, come il caso di, per esempio, di Achili, di un paio di anni fa, è in questo caso la realtà virtuale, che è molto promettente dal punto di vista della modalità di, come dire, terapeutica, perché effettivamente ci dà una serie di opportunità nuove, di cui tra l'altro vi faccio un ulteriore esempio in conclusione. Un altro caso degno di nota è la recente autorizzazione in Germania di Hello Better, che sostanzialmente è un intervento legato allo stress e al burnout, e questo è interessante, perché sostanzialmente è una unmet need nella popolazione e quindi ora i pazienti naturalmente tedeschi in Germania avranno la possibilità di accedere tramite evidentemente il loro sistema a questo tipo di intervento, che in questa fase storica è piuttosto direvante. Questa è un'autorizzazione proprio di questi mesi che risponde a un unmet need importante. Altra novità è il grande annuncio francese. Il grande annuncio francese riguarda molte cose, quindi che non abbiamo tempo per analizzare, però ci permette di rimarcare dei punti. Intanto è un inquadramento normativo per tutta la sanità digitale, e quindi questo sicuramente è un tema importante, che vada come avverranno le comunicazioni a chiarezza sul concetto del fascicolo sanitario, rinoscendo anche una grande centralità del paziente in tutto questo, e poi c'è la novità che evidentemente riguarda gli argomenti che stiamo trattando oggi, e cioè la novità del catalogo, per così dire, delle soluzioni approvate, e in particolare l'annuncio che copieranno la legge tedesca quanto alle digital therapeutics e le digital medicines. Ricordiamoci che la legge tedesca non è relativa alle digital therapeutics, ma è relativa alle digital medicines e le digital therapeutics, secondo quello che è la classificazione attualmente più riconosciuta, e che poi, come abbiamo sentito, si può prestare a ulteriori migliorie, precisazioni e quant'altro. Però il concetto chiave è che loro copieranno la legge tedesca, il che vuol dire che due paesi molto importanti in Europa condivideranno quel tipo di impianto. Quel tipo di impianto, forse però ne parleremo in discussione, non è perfetto, però ha dei grandi pregi di cui sicuramente bisogna prendere atto. Una novità, vi avevo annunciato qualche cosa che riguarda anche il nostro paese, a parte, e qui ovviamente parliamo solo di digital therapeutics e di digital medicines, nel nostro paese ovviamente c'è grande fermento, come avete sentito da tanti altri passaggi. Noi dopo, noi di Healthware, dopo abbondanti tre anni di lavoro, diciamo così, in tranquillità e un po' dietro le quinte, abbiamo iniziato a presentare nel mondo Healthware Therapeutics. Healthware Therapeutics è sostanzialmente la nostra divisione dedicata alla costruzione di soluzioni di digital medicines e digital therapeutics, ripeto, frutto del lavoro di oltre tre anni, e che ora inizia a muovere i primi passi, ovviamente adeguatamente presenteremo nel 2022. Però si tratta di una realtà italiana che guarda chiaramente al mondo, immaginate come una sorta di biofarmaceutica digitale che lavorerà con, e sta lavorando già con le aziende farmaceutiche, per lo sviluppo assieme di digital medicines e di digital therapeutics. E qual è la filosofia di questo tipo di approccio? La filosofia è quella di, abbiamo sentito parlare prima, Giuseppe, con una felice visualizzazione del martello e dei chiodi, e però ci sono anche le viti e i cacciaviti, e chiaramente poi c'è la sega, c'è la pialla, insomma ci sono tantissimi strumenti. La nostra visione è esattamente quella di una serie di strumenti digitali che a nostro avviso devono matchare quelle che sono le patient journey, in Italia i PDTA, per capirci, andando a fornire soluzioni di telehealth, digital care programs, digital medicines, digital therapeutics, ma orchestrati rispetto a una, diciamo così, percorso, di cui questo che vedete è diciamo il titolo del libro, un percorso che risolva problemi concreti delle persone e che naturalmente sia un empowerment per i medici che di quelle persone, prima ancora che esse siano pazienti, devono avere cura. Quindi il concetto è allineare questa serie di soluzioni che come abbiamo detto vanno da le digital medicines, alle digital therapeutics, passando per la riabilitazione digitale e n altri, come dire, particolari classi di tool laddove questi siano in grado di aggiungere valore. E aggiungere valore, naturalmente, è un concetto molto ampio che abbiamo sentito deve essere sviluppato e analizzato multidimensionalmente. Chiudo con un primo esempio di un programma che è stato appena iniziato a comunicare dal punto di vista scientifico, che è in corso di sviluppo con un'azienda farmaceutica multinazionale finlandese, Orion. Si tratta di un prodotto basato su VR per il dolore severo, cronico, invalidante e sostanzialmente è una soluzione che è basata non solo su un sistema di realtà virtuale integrato da controller che consentono sostanzialmente di vivere al paziente un'esperienza controllata ed incrementale arricchita dal biofeedback e dalla continua elaborazione di questo biofeedback per la proposizione di come la terapia si sviluppa lungo l'ambito di 6-8 settimane ed è complementata da un meccanismo che consente naturalmente al medico di seguire e apprezzare questi tipi di progressi. Nell'interesse del tempo non possiamo approfondire di più però ci tenevo a farvi vedere il disegno dello studio pilota che è stato condotto dagli amici di Orion ovviamente con la nostra collaborazione in modalità completamente remota si parlava prima con Gualberto Gussoni di Decentralized Clinical Trials che sono di fatto come lui ha ben detto una delle vie maestre che dovremmo utilizzare nella validazione delle terapie digitali come vedete questo è uno studio randomizzato con placebo doppio cieco sulla indicazione che poi se la vogliamo dire nel modo del software as a medical device è sostanzialmente poi l'intended use questo studio è stato pubblicato con ammissione breakthrough al congresso mondiale di terapia del dolore nel tardo mese di agosto la cosa molto interessante che ha dimostrato in fase iniziale ricordiamoci che uno studio pilota sostanzialmente è l'out performance di quello che è il gold standard di trattamento farmacologico ma la cosa interessante è che essendo stato comparato sia contro il farmaco sia contro l'intervento digitale senza il principio attivo quindi lo stesso visore di realtà virtuale gli stessi scenari ma senza l'algoritmo che è il principio attivo è molto interessante perché sostanzialmente rispetto al braccio con visore quindi con la stessa strumentazione ma senza l'algoritmo attivo questo strumento il placebo digitale per così dire ha dimostrato una certa efficacia ma non il livello di efficacia che è stato significativamente diverso del prodotto dotato di algoritmo attivo e che quindi adattava evidentemente l'esperienza del paziente rispetto al biofeedback questo noi crediamo che sia una delle modalità importanti e da considerare per lo sviluppo e la validazione scientifica di questo tipo di prodotti e voglio anche chiudere con una considerazione che poi magari tornerà nella tavola rotonda sull'impegno che serve per sviluppare questo tipo di soluzioni qui noi stiamo stiamo parlando di un lavoro di investimenti significativi e di un lavoro di oltre tre anni quindi quando sentiamo parlare di app che vengono sviluppate in pochi mesi e che poi vengono elevate o si tenta di elevarle a dignità di digital medicine o digital therapeutics parliamo di tutt'altro qui parliamo di interventi che sono interventi che hanno la stessa complessità che può avere lo sviluppo di un farmaco che evidentemente hanno tempi più brevi e costi più bassi ma stiamo parlando di quella complessità e quindi secondo me i sintomi della complessità poi sono molte cose che abbiamo sentito però dobbiamo capire che alla base di tutto c'è l'esigenza effettivamente di approcciare questo tipo di soluzioni in una modalità rigorosa e tenendo conto della complessità di disegnare una vera e propria terapia il cui principio attivo non è farmacologico bensì è digitale e con questo vi ringrazio molto dell'attenzione ripasso la parola a Giuseppe Recchia e credo che rimaniamo collegati per una discussion se l'ho capito bene esatto grazie Roberto intanto il mio socio ha a Gualberto quando ti faceva i complimenti proprio per aver portato Frontiers Health in Italia e soprattutto aggiungo per le due sessioni che ho organizzato la prima delle quali ho partecipato la seconda causa il mio problema di salute legato a un dente mi ha impedito ma ha partecipato l'isabetta e quindi sono state sicuramente in momenti significativi ho visto con interesse il percorso che hai presentato di Health Ware per il Therapeutics diagnosi terapia esattamente quello a cui dobbiamo adesso arrivare parlando però dell'operaio con il allora in quel percorso quando si passa dalla diagnosi prima ancora c'è un momento di educazione sanitaria di formazione ma passiamo paziente malato diagnosi terapia riabilitazione costante monitoraggio fisico digitale che sia ecco in questo percorso servono chiodi servono viti servono bulloni e altro se l'operaio che ha solo il martello non ha la conoscenza degli altri strumenti quando vede una vite dice che è un chiodo malfatto e gli dà una martellata che è quello esattamente che sta succedendo oggi perché gli altri strumenti non sono stati mai discursi approfonditi per cui oggi c'è un sistema binario da una parte c'è l'applicazione di cui parlavi tu prima quella fatta in pochi mesi che è un giocattolo e dall'altro estremo c'è il digital therapeutics in mezzo non c'è nulla ecco in mezzo invece ci sono tante altre tecnologie digitali i digital nursing quindi sono dispositivi medici che vanno sviluppati con ricerche che vanno applicati in diversi contesti questo permettimi di fare solamente una chiosa su questo su cui sono d'accordo è anche però diciamo così un fenomeno di gruppi soggetti o anche in certi casi i paesi che si affacciano a questo tipo di cose chiaramente in realtà che sono partite prima o che comunque hanno creduto prima in questo tipo nella medicina digitale nel senso più alto nella digital health è chiaro che le idee sono parecchio più chiare però io credo che questa iniziativa di oggi tutto il lavoro che si sta facendo in questo periodo i libri bianchi avere infilato nel frontiere globale il digital health made in Italy credo che ci stiano aiutando a connerterci meglio con mercati e paesi più avanzati e poi imparare a dire anche la nostra quindi io sarei positivo nel continuare a tenere duro grazie a tutti